Buona, qui ci siamo tutti, andiamo avanti. Io devo scaricare anche lui. Io sono lì a prevenire, faccio l'etromaggio, non vedo più il muletto. Ho visto che è entrato ed è uscito. Mi passerà da parte. Non vuoi che sono uscito? Sto portando via lui e tutto il muletto. Ma sei uscito? No, ma questo. Quello col camion balla avanti. Questo arriva. Ma tu vuole dire che carichi il camion, vedi che sto passando l'olio di metà. E dove ti vede? E passa dentro. Io dico scusa, ma quello là è scemo. E io devo scaricare perché lui... Ma io non l'ho vista. Io non l'ho vista. E te lo faccio vedere io. Qua va lui giù. Senti che si vede. Si vede. E c'è lui. Sennò qua... Qui l'ha detto, montate i cazzeppi e tagliare la legna. Tanto l'ha capito lo stesso. No, solo tagliare la legna. Non devi portare la legna alla bimba e alla nipote. Tutta settimana fa un cazzo la domenica e chiedere la legna. Va bene? Va bene. Siamo alla tre. Così mi piace questo ritmo. Ma chi è che fa il santo? All'inizio ci siamo un po' in gabboli. Siamo alle tre all'ultimo. Ma comunque dico una cosa. Il problema è di sempre stare con la zona lì. C'è troppa roba in mezzo ai comuni oggi. Che non sai dove andare. È sempre stato quello il pubblico. Anche la gente presente. Tu vieni oggi? Io sono qua fisso. Ma ce l'hai la moto? No. Per ora ancora no. Ho smesso. Eh, ho smesso. Ci arrivo, ci arrivo. Dammi ancora un attimino. Il primario mi ha detto aspettare un momento ancora. Ah, cosa ti sei fatto? Un infarto a settembre. Ma è rimasto col 35% del cuore. Quindi sai com'è. Ci vuole un momentino. Eh, ascolta. Quello è. Guarda lì che spettacolo. Guarda che icona. Guarda che icona. Come è tenso la croce uguale. Guarda. Esatto, va. Ripresa da sotto.